Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Rainbow Six Siege ragazzi Prima di iniziare questo video volevo andare a salutare e ringraziare GSC Martin Hawks, SBA The Honor, Black Eagle e A Grey Sheep Perché abbiamo fatto insieme, per la prima volta ho giocato con questi ragazzi Abbiamo fatto una ranked pazzesca e soprattutto non sapevano neppure di essere registrati Quindi direi di iniziare subito dopo aver fatto queste piccole precisazioni e saluti con il video Andiamo con Play Ok sto zitto Allora, ovviamente tutto è editato e tagliato, questo è il mio drone Vediamo un po' il drone, eccolo, guardate ragazzi Snow dove va a posizionare il drone, guardate Guardate che cazzo di drone Mi ha impiazzato proprio il robottino in un modo assurdo Mi vanto anche di questa robottata Ok, saliamo dopo aver aggiustato un po' i volumi Ok, uno entra, viene fucilato Mi sono preoccupato Ovviamente ragazzi, ovviamente, è folgorato Fulgorato, primo round Guardate Bam, mi ha proprio No, mi ha shottato Esattora torre Esattamente C'è il mio bottino sulla scrivania che vede proprio Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando pingato, pingato, pingato Eccolo E dove? Super ping si è dato alla fuga E' scappato St'ha arrivato lì tanto Eccolo 3 2, 1 Cioè, guardate ragazzi Gli l'hanno contato proprio Primo round perso Eh, troppo zoom star Primo round perso Andiamo con il secondo round E questo è stato veramente un partito, ragazzi Il secondo round vado di Giubbetti Vado di Giubbetti E iniziamo la difesa Quando stiamo perdendo, praticamente, 0-1 Oh, esplosione Attenzione Esplosione Ah, Nord Segnalo da Nob Arriva da Nord Hanno fatto scoppiare La posizione No, di... Oddio Vabbè Però per sicurezza lo metto qui Vediamo un po' Altra esplosione, ragazzi Stanno arrivando Zitti, zitti No Eccolo ragazzi Bam Bam E' rimasto da per terra Come al solito Come nel video precedente, ragazzi Merda Come nel video precedente Interrogo, interrogo, interrogo Fuck Veramente, fuck Cazzo C'è quello per terra E uno sulle scale Se non lo avete visto il video precedente Ovviamente ve lo lascio qui sopra Porca di quella troia C'è qui Terribile, terribile Qua Tanto segnalo Con la telecamera Non mi do per vinto Ma tutto molto silenzioso in questa rank Che sono stato ragazzi Però però Nonostante il ping Ha avuto la meglio Niente Anche questo round Ragazzi Sta prendendo una bruttissima piega No Sinistra 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 Fino a questo momento Sta dominando Io ho visto lo spot di capere E mi sono avvicinato pure Che ho fatto una cazzata Sta limitando i danni Ok, ripartiamo The Onir ha trovato l'obiettivo Grande In questa terza round Ragazzi Andiamo a pingare il nemico Vediamo Grey sheep Che lotta Con il suo drone Tra le gambe Cerca di colpire Gli zebedei Del nemico Cazzo Per raddoppiare il danno Attenzione Snow viene Quasi colpito Quasi colpito Non capisco neanche da dove Mi buttano roba da sopra Ok Qui ragazzi Qui sta per succedere Si sta per capire Che cosa sta succedendo Stiamo per rimontare Un partitore Attenzione Sta per succedere Il teamwork ragazzi Attenzione Tenetemi bene ascolto Ce n'è uno lì Neutralizzate la minaccia Uno lì che mi sta sparando Uno deve essere più a sinistra Ora si è spostato più a sinistra Esatto Boom Uno tutto a destra Occhio Tutto a destra Boom Ragazzi E qui Qui si è capito Come andava a finire Qui si è capito Si si tutte e due Qui si è capito Assalto Assalto Morto Lo sono molto cercano Sono compromesso La mia posizione Vabbè Vite dentro Ok E il round è vinto Il round è vinto Ho fatto due kill Ho fatto due kill Quello che era ucciso C'era stato un fraintendimento Sulla seconda kill Non ce l'aspettavano Vediamo Si parte Su un quarto round Quarto round Metto Giubbettino Come sempre Ok Vado One shot I droni E' un po' Questo round è intenso Ragazzi Round intenso Siamo 3v5 3v5 Non è giornata C'è questa Qui allora Snow che cosa fa Snow Apre la porta Come un coglione Rischia di essere Fucilato Rischia di essere Fucilato Si nasconde Dietro il comodino E se la camper E tu copri di là Se la camper Ci organizziamo Dopo una rapida organizzata Su dove andare a guardare Oh mio dio Intergo Andiamo un po' Ragazzi Ora vi commento Quello che ho pensato Il nemico è qui E' lì Ma che gli faccio Ah già Il muro è di legno Ok Io ho tradotto Il mio pensiero Ok Drone che dà la scossa Fermo impalato Vediamo un po' Insomma 3 kill Siamo 3-1 Abbiamo capovolto Letteralmente la situazione Non è da lì Non è da lì Era dentro Era dentro Era dentro Manca solo un nemico No l'ho quasi preso E' vicino a Gray Ship Fuori Che ragazzi Qui E' successa una cosa assurda Allora Mi ha anche buggato Black Eagle Mentre lo curavo Cioè non è per terra lui Beh qui Ho un paio di indicazioni Arrivo Occhio quando ti affaccia la finestra Sa dov'è Curo Però mi hanno un attimo Buggato Che mi ha iniziato a sbarellare Allora Mancano 10 secondi Andiamo un po' E fuori E fuori Qui Lo prende Lo prende Con un colpo assurdo Ma purtroppo Stavo guardando il menu E quindi l'ho tagliato Cioè si vedeva un pixel Ragazzi del nemico Un pixel Fuori la finestra Quindi nice shot Andiamo con il quinto round Quinto round Su due a due Ragazzi Rimontone Partito Contenitori di Bionistro Trovato da Black Eagle Questa volta Io non ho trovato un cazzo Ragazzi Mi sono emozionale Quindi mi sono piazzato Questa volta Bene Sotto un divanetto Mi sono piazzato bene Ok Ci organizziamo E guardate qui che succede Ragazzi Non so se avete visto Lì la finestrella Che si è rotta Qualcuno Mi ha provato a sparare Ma io non me ne sono accorto Non si sa come Non si sa come Ma a me mi inizia a sparare Lui non sapevo neanche da dove Veramente Non so come E qui ragazzi Si stava già capendo L'evoluzione L'evoluzione Della dominazione Attenzione Vediamo a Gray Ship Che salta Temerario Dentro la stanza Attenzione Mi uccidono Come un pirla Ovviamente C'ha fatto il Ovviamente Pulsila in fondo Pulsila in fondo C4 per me Aia che male Davanti a me Pulsila in me Pulsila in me Pulsila in me Ragazzi Non mi sono morto Round vinto Nel caos Nel caos Ragazzi Nel caos Però ci stiamo facendo rispettare Attenzione Il nemico ci teme Dai che bordale Completamente a casa Ha preso Se vedevi C'era il mio personaggio Che beccava anche i suoi colpi Si è stata una situazione Veramente Grottesca Ok Andiamo con Il sesto round Mi muoio in bocca di pistola Perché se c'è 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 Difensori Questa volta C'è 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 Giudizio Tecnico Ragazzi Giudizio Tecnico L'infamia Del posto Tutto ciò che Di più tecnico Sono riuscito a dire In tutta la partita Vediamo un po' Con questo aggeggio Con questo aggeggio Ragazzi Nome tecnico Aggeggio È la traduzione italiana Di gadget Vai Infatti è quello È aggeggio O merda O merda O montagna avanti a me Ma è la campero E qui ragazzi Adesso succede una cosa Che ha dell'incredizione Torno Gira Destra Sinistra Destra Sinistra Finché lui Non ritarda A girarsi Questo ragazzo Che adesso Non so bene Chi è Cerca di Cerca di Di tenerci Come un professore Tiene gli alunni Ragazzi Guarda Saltiamo giù Tutti come animali Ci buttiamo Come asini Tutti a sparare Su montagne Guardate Il caos Regna Ragazzi Mi sono morto Non riuscivo A stare fermo Ragazzi Non sparate Non sparate Ascoltatemi Non sparate Giratevi un secondo Tutti E poi vi rigirate Tutti insieme E qui Giuro non ho capito Mi giro Torno Però è vero Funziona Continua Continua Sì sì Continua E qui ragazzi Non lo so Ho scazzato Ho scazzato Ragazzi Fategli la finta Giratevi di su Ok È andata Non si sa come Alla fine È andata È andata Gli abbiamo Squagliato le gambe Ragazzi Gli abbiamo Squagliato le gambe Squagliato le gambe Gli girate di spalle E tipo un secondo Eccoci qua ragazzi C'è snow lì C'è snow Sulla sinistra Ma è bello Perché a me una volta L'hanno fatto Io avevo montagna E erano in tre L'hanno fatto tutti insieme Buona questa tecnica Di girarsi ragazzi E quindi per questo video Ho commentato Perché è davvero tardi E quindi ho deciso Di non farlo Con la webcam Direttamente È tutto Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Un commento Fatemi sapere che ne pensate Io vi saluto E ci vediamo come sempre Nel prossimo video Ciao